Rock Gianna Nannini non trascura i suoi fan e pubblica Italia, uno straordinario nuovo progetto discografico che vede la rocker alle prese con alcuni dei più bei brani della musica d'autore italiana attentamente selezionati dalla stessa cantante che li ha scelti uno ad uno per dare vita a un must have veramente da collezione. In tutti i negozi dal primo dicembre Italia contiene infatti 17 brani della canzone d'autore italiana del novecento selezionati eccezionalmente sulla base della bellezza e della personalissima visione musicale di Gianna Nannini, non quindi un jukebox intossicato dal revival come ha dichiarato la stessa cantante ma una scelta di testa e di cuore fatta con testa e cuore appunto di musicista, di cantante e di autrice. In tutti i negozi di dischi dal primo dicembre Italia è già un successo. Rock Gianna Nannini non trascura i suoi fan e pubblica Italia, uno straordinario nuovo progetto discografico che vede la rocker alle prese con alcuni dei più bei brani della musica d'autore italiana attentamente selezionati dalla stessa cantante che li ha scelti uno ad uno per dare vita a un must have veramente da collezione. In tutti i negozi dal primo dicembre Italia contiene infatti 17 brani della canzone d'autore italiana del novecento selezionati eccezionalmente sulla base della bellezza e della personalissima visione musicale di Gianna Nannini, non quindi un jukebox intossicato dal revival come ha dichiarato la stessa cantante ma una scelta di testa e di cuore fatta con testa e cuore appunto di musicista, di cantante e di autrice. In tutti i negozi di dischi dal primo dicembre Italia è già un successo.